Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Gian Nattasio sulla A1 in direzione Bologna un chilometro di coda per incidente tra Firenze Scandicci e il Bivio per la 11 rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino Vietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio Sulla Fipilì per l'Avori rallentamenti in direzione Firenze tra Empoli-Est e Montelupo e in direzione mare tra Ginestra e Montelupo Lo svincolo di Montelupo-Fiorentino è inoltre chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare Per traffico intenso rallentamenti in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze-Scandicci Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio!